Tutte le domande che vi fate, la voce interiore attraverso Roberta S. guide. Non avete bisogno di comprendere fino in fondo il senso delle vostre esperienze e tutte le domande che vi fate non fanno altro che portarvi a una confusione. Allora noi vi diciamo, non vi fate queste domande che vi confondono perché non troverete la risposta che fa per voi, perché la vita che state vivendo non è quella vera, non è quella reale e quindi tutto rimane vago e con poco senso. La vostra vera vita è quella che vive la vostra anima. Voi siete un piccolo pezzo che si sta muovendo da solo, lontano dalla vostra anima e sentite la mancanza di quell'energia che vi dona la vita. Ma voi potete avvicinarvi e sentire la sua presenza perché vi guarda e vi sorride costantemente. Se solo ponete gli occhi verso la vostra dimensione, verso quello che vi suggerisce il vostro pensiero migliore, allora ritroverete la vostra anima. Sappiate crearvi una voce che vi suggerisce sempre parole amorevoli. Sarà la vostra mente a farlo e ditele grazie perché la vostra mente è una fonte di aiuto e di sicurezza per voi. Sappiate sfruttarla per mettervi in comunicazione con quella parte di voi che vi sembra incomprensibile, ma che non lo è affatto perché siete voi. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.